Sono ripresi nei giorni scorsi dopo lo stop dovuto alle festività natalizie e i lavori per garantire manutenzione, sicurezza e decoro delle strade di Agropoli. In chiusura del 2021 gli interventi avevano già interessato Viale Lombardia, Via della Libertà, Via Frasso Telesino, Via De Curtis, Via Piave, Via Colombo, Via Fuonti e altre strade cittadine. Ora invece si sta procedendo alla fresatura di Via Pio Decimo, successivamente la ditta incaricata procederà alla posa del nuovo manto di asfalto e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno in altre zone della città. Queste opere sono state fortemente volute dall'amministrazione comunale che ha approvato due progetti relativi alla manutenzione della viabilità interessando numerose vie del centro e della periferia. Negli ultimi anni, spiega il primo cittadino Adamo Coppola, la nostra città è stata interessata da importanti lavori per il miglioramento e l'implementazione dei servizi, che hanno però compromesso le strade. Abbiamo quindi deciso di intervenire con due distinti progetti, il primo dei quali già in corso. Mi scuso fin da ora per i disagi che potrebbero presentarsi a causa degli interventi, ma una volta ultimate le strade di Agropoli saranno sicure e decorose. Terminata la fase più critica dell'emergenza Covid, possiamo tornare a lavorare a pieno regime per migliorare i servizi e avviare opere pubbliche sul nostro territorio. Ciò conclude il sindaco di Agropoli grazie anche allo straordinario lavoro degli uffici capaci nei mesi scorsi di intercettare importanti finanziamenti. Il comune infatti è risultato beneficiario di fondi per il rifacimento dei marciapiedi in via Giotto e per il restyling di via Carlo Pisacane e via Carmine Rossi. Alcuni giorni fa infine ha ottenuto ulteriori 103.000 euro da parte del Ministero dell'Interno, sempre per il miglioramento della viabilità pedonale.